Sindaco ci racconta quest'estate? Ancora non è finita, siamo al Giro di Bo, a più di 30 eventi dal vivo, il 2 settembre ci sarà Max Gazze e tantissimo entusiasmo, sold out, tanto entusiasmo perché tanti cittadini hanno riscoperto lo stare insieme, la socialità, la cultura, tanto teatro, non solo musica dal vivo, ma tanto teatro che ha ripopolato le nostre piazze, i nostri luoghi con location che erano state abbandonate da decenni. Che significa aver recuperato il Lungo Fiume? Aver recuperato i ricordi dei nostri nonni, dei nostri padri e aver restituito ai ragazzi al futuro uno spazio di Montoro. È solo il primo passo, abbiamo avuto sul Lungo Fiume un finanziamento da 5 milioni di euro per una riqualificazione profonda, strutturale e definitiva dei primi due chilometri. Siamo nella fase di progettazione e nel 2022 partirà un grande progetto di 2 chilometri lungo Fiume a Montorio al Romano. Lei ha parlato del 2022, ha parlato di ricordi, ci sono le voci del passato che sono quelle del presente e quelle del futuro, ci sono voci strane a Montorio. Estate 2022 c'è un progetto segreto? È la prima edizione di Gran Sasso Live, grande successo, tanti sindaci mi hanno chiamato per partecipare a questa grande festa del nostro territorio e ne sono onorato, contento, è una manifestazione che crescerà molto. Quest'anno l'abbiamo fatta in una condizione emergenziale, il Covid, ma anche la tempistica veloce. Già invece siamo pronti per il 2022 con... Con? Stiamo lavorando su dei nomi importanti. Lei per esempio è molto più giovane di me, però 20 anni fa c'era un derby, un derby tra due gruppi importanti. Si ricorda? Ricordo, tra i Durandurano e Spondau Ballet, vediamo.